Da ieri mattina sono in assemblea permanente presso gli uffici di Vallo della Lucania. Per 16 dei 35 dipendenti del Consorzio Smaltimento Rifiuti Salerno 4 si avvicina il licenziamento. Si tratta degli operai che erano in servizio presso l'impianto di selezione di Vallo Scalo, chiuso da oltre due anni. Con il blocco delle attività si è fermato anche il lavoro degli operai messi in mobilità. Il prossimo 31 maggio scatteranno i licenziamenti, poiché finirà il termine dei 24 mesi di collocazione in disponibilità, essendo i lavoratori tutti assunti prima del 31 dicembre. Al momento gli operai sono quindi senza lavoro, avanzano dai 12 ai 24 mesi di stipendio e rischiano il licenziamento. Comprensibile la loro rabbia, nonostante le ripetute rivendicazioni sindacali, gli incontri in provincia e gli appelli pubblici, ad oggi nessun atto concreto è stato fatto a tutela del loro lavoro. Ieri mattina, al termine di un'assemblea, hanno deciso di non muoversi dagli uffici e di presidiare in forma di protesta la sede del Coris A4. Noi da un anno ormai pubblicamente usciamo sui giornali, in televisione, rivendicando la tutela del posto di lavoro, gli stipendi, il pagamento di quanto ci è dovuto. Noi avanziamo stipendi dai 12 ai 24 mesi, quindi abbiamo un affanno economico abbastanza forte. Purtroppo di noi nessuno si fa carico del nostro problema e a vuoto facciamo appelli affinché venissero accolte le nostre istanze. Noi siamo qua purtroppo dopo tanto tempo a ripetere più o meno le stesse cose che abbiamo detto già le prime volte. Ma da quanti mesi non percepite lo stipendi? Ma io ho perso la contabilità, comunque sono diversi mesi, molti più di 15-16 mesi io personalmente. Però io quello che chiedo è che i signori politici della zona prendano a cuore questo problema. Se sono parri di famiglia, hanno un po' di dignità, prendano a cuore questo problema. L'Aiele è un barracone che è servito solo ad assegnare qualche poltrona a qualche politico e farsi le campagne elettorali a discapito nostro del consorzio. Noi vogliamo questo, che questi signori se ne vandano a casa, devono finire di fare danni al cilento. Io sono un cilentano e me ne vando, però questi non sono del cilento secondo me, devono andare via perché pensano solo ad incrementare il loro portafoglio e i loro interessi. E non pensano a tanti pari di famiglia che non hanno veramente come sfamare, come comprare la roba giorno per giorno. E con lei come vive? Come vivo? Io vivo onestamente con una miseria, se vi dico voi non mi credete. Mia moglie va a fare dei piccoli servizi, 20 euro a settimana. Con questo vivo e con l'aiuto di miei figli. E a 62 anni mi vergogno. Oggi, stasera, quando vado a casa e mia moglie mi dice che avete fatto, purtroppo come prima. Sono venuto a consumare solo la benzina pure oggi. Però spero che adesso risolviamo il problema perché noi da qui sopra non ci muoveremo. Fin quando non ci danno risposte serie. Saremmo ad oltranza, io mi fermerò notte e giorno, non mi creo il problema. Perché lei rischia il licenziamento? Purtroppo sì, io il 31 maggio sono a casa. Io il 31 maggio sono a casa. Posso anche sentirmi tutelato rispetto a tanti altri colleghi che ho una certa età. Però io lotto anche per loro.